Toscana Wave, Psycho Stage by Day e by Night Italia Wave 2007 musica dal vivo dalle 10 di mattino fino a tarda notte in concomitanza la sera con Global Stage e Psycho Stage oltre 70 artisti in programmazione in 5 giorni un festival dentro la S-Festival tutta la nuova tendenza della musica attuale italiana, toscana ed europea un focus tutte le mattine sulla musica indipendente e emergente toscana con gruppi provenienti da tutte le province, da tutta Italia e come dicevo prima sia da Europa che dall'oltreoceano giovedì ospiti a Toys Orchestra per l'Italia e i Tung dall'Inghilterra e altri artisti che ancora non possiamo annunciare